Buongiorno dalla redazione di Florence Multimedia, in studio Nicola Giannattasio. Traffico al momento regolare su tutta la rete stradale ed autostradale della Toscana. Sul tratto per Livorno della FIPILI fare attenzione per personale su strada tra lo svincolo per l'Aurelia e l'allacciamento per la FIPILI in direzione Firenze. Sulla statale 1 Aurelia scambio di carreggiata per lavori tra Scarlino Scalo e Rio Torto in direzione Cecina. Sulla statale 3 Bis Tiberina riduzione di carreggiata per lavori tra Balsavignone e Canili in direzione Ravenna chiuso lo svincolo di Canili. A Firenze restringimenti e senso unico alternato in via Canova per lavori fino al 31 agosto. Moversi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!